il comune è allora qui vuoi questo dice lo sfiato il pappagallo fabio ho qui lo spazio ecco si sta muovendo è durissimo questo che ti serve a far chiudere no è per capire come funziona come funziona? lo vedi così? lo mette così è chiuso vedi qui si fa pulire l'acqua pure questo è bloccato niente fa lo devi lasciare ammorbidire domani dopo domani io lo rimetto quando torno lo devono usare questo è tuo questa è roba vostra pulisci qua sopra questa è roba vostra questa è 427 ok adesso praticamente per avere ci dovrebbe aprire l'acqua là su sotto sotto alla cosa a vedere se cammina poi ecco i valli sono arrivati là